Un nostro elicottero è disperso da 18 ore. A bordo c'era un ministro con il suo assistente di questo grazioso staterello. Riceviamo un segnale stabile proveniente all'incirca da qui. Allora, cosa dovremmo fare? Un'operazione semplice, da fare in un giorno. Con l'elicottero localizziamo gli ostaggi, li liberiamo e li riportiamo al di qua del confine prima ancora che ci scoprano. Continua. Ognuno di noi ha i suoi ordini, maggiore. Una volta raggiunto l'obiettivo, Dillon valuterà la situazione e prenderà il comando. Allora, cosa dovremmo fare? In parole povere, i nostri amici rischiano di essere spremuti e per noi sarebbe un disastro. Ci serve il migliore. Ecco perché sei qui. Un'operazione semplice, da fare in un giorno. Continua. Con l'elicottero localizziamo gli ostaggi, li liberiamo e li riportiamo al di qua del confine prima ancora che ci scoprano. Allora, cosa dovremmo fare? Con l'elicottero localizziamo gli ostaggi, li liberiamo e li riportiamo al di qua del confine prima ancora che ci scoprano. Allora, cosa dovremmo fare? Allora, cosa dovremmo fare? Allora, cosa dovremmo fare? Allora, cosa dovremmo fare?